Ciao stelline e bentornate sul canale. Dobbiamo aprire il regalo prima dell'episodio. Linda? Oh grazie! Che bello! La mia prima volta. Wow dorato! 3, 2, 1... Che carino! Ce n'è un altro. Oh cavolo ce ne sono tanti. Aspetta che li prendo un attimo tutti. Ok ce ne sono un po' da aprire. Ah ah credo sia un insetto che sembra un bassoncino. Oh il cane con le ruote poverino. Una casa bella. Un gufo. Questa lucertola col cappello da papo natale. Questa tipo un animale e un gatto. Deve essere la sua mamma. Bene adesso inizia l'episodio. Buona visione! Bene eccoci in cucina. Ok ecco gli snack. Alex? Sì? Devo dirti una cosa. Dimmi. Grazie ragazzi è bellissima. Io adoro fare vestiti. Non vedevo l'ora di prenderne una. Wow questa sfera di cristallo è magnifica. No la nuova console ma come l'avete trovata? Grazie ragazzi vi adoro. Prego. E ovviamente Alex non c'è allo scambio dei regali. Già è sempre con la sua linda. Che ma a proposito dove sono finiti? Grazie è bellissimo. Wow mi piace un sacco. Prego. Beh ma tu grazie per questo. Prima di posarli al tavolo voglio solo controllare che abbiano tutti aperto i regali. Bene. Ehi ma qua è rimasto un regalo azzurro. È vero. E sull'etichetta c'è scritto per Alex. Ma non c'è il mittente. E non dovrebbe consegnarmelo qualcuno? Beh visto che per me posso aprirlo no? Penso di sì. Wow questo è il nuovo modello di palla da calcio. Era da un po' che lo volevo. Ma non capisco chi può avermi fatto questo regalo. Devo ringraziare quella persona. Ci pensiamo dopo. Adesso posiamo queste cose. Eh sì va bene. Posso avere il regalo lì vicino agli altri. Ecco fatto tutto a posto. Oh ehi ciao ragazzi. Vi siete già scambiati i regali. Uh quante cose belle. Vi sono piaciuti? Sì ci siamo già scambiati i regali. E tu te lo sei perso. Già dove eri finito? Eh scusate dovevo prendere altro cibo in cucina. Sì perché io non ce la facevo. Non ho tre mani. Sì sì certo. Grazie ragazzi adoro questo lì. A me piace un sacco questo. Sarà perfetto per i miei scherzi. Ehi Argentina questo è per te da parte mia. Solo da parte tua? Sì insomma io sono tuo fidanzato. Voglio farti un regalo solo da parte mia. Oh grazie ma non dovevi? Scusa io non ne ho fatto uno solo da parte mia. Tranquilla non fa niente. Apriolo. Wow è il nuovo modello della chitarra elettrica. Sì perché quello che ti abbiamo dato per entrare nella band era del nostro vecchio compagno ed era un po' vecchio. Questo invece è il nuovo modello. Mi piace un sacco. Grazie morte. Signori e signori posso avere un attimo la vostra attenzione? Ho visto che vi siete scambiati i regali. Spero vi siano piaciuti. La festa sia stato il vostro regolamento e il cibo anche. Adesso faremo un ballo lento per concludere la serata e poi potrete tornare a casa. Vai DJ metti il lento. Ok. Formate le coppie. Ah il momento della serata. Già almeno cerchiamo di non pensare ad Alex e Linda. Bravo stai diventando sempre più bravo a ballare. Grazie. Ho avuto una brava insegnante. Meno male è quasi finita. Già non ne potevo più di vederli sempre insieme. Eh già. Beh noi siamo qui del sole senza... Cioè non siamo fidanzati. Già però è stata una bella serata. Già fra amiche. Ehi però ho notato che... Cioè Sara la tua fidanzetta non è venuta neanche all'altra festa. Neanche a quella di Halloween. Come mai non viene le feste? Oh ecco no. Lei non è tipa da feste. Tutto qui. Beh ma ci sei tu e anche noi i suoi cugini. Insomma anch'io non è che mi fanno impazzire le feste. Però ci vengo per voi. E beh poi lei ha sempre impegni. Che ne so magari. I suoi genitori non la fanno venire. Ah ok. Bene Stelline il nostro episodio finisce qui. Ditemi cosa ne pensate di come è stato il ballo di Natale. Come sono stati i loro outfit. I regali. Sono stati meglio ai nostri. Ma erano soldi. E beh sono utili. Qual è la vostra coppia migliore? Secondo voi insomma... Secondo voi è vero? Cioè perché Sara secondo voi non viene alle feste? E chi avrà fatto questo regalo ad Alex? Fate tutto questo e iscrivetevi. Lasciate like. Condividete il video. Dai che se arriviamo a 50 iscritti potremo fare una live. Ciao. Buon Natale. Buon Natale.